Dammi, dammi, ohè, 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 vieni qua, Francesco. Allora, tutto bene, Francesco? Sì, tutto bene, grazie. Come mai alla Corriere non ti sei iscritta a quella della riforma? Eh, non ho saputo, diciamo. Allora, qua c'è questo palco scenico importante, con il protagonista sei tu, e quindi tu l'anno scorso sei stato uno dei quasi vincitori. Sì, vabbè, se brucesse la città. Allora, gli facciamo cantare, Luca, quando vuoi bloccare, poi blocchi, perché lui c'è una bella voce possente, con baciccio, vai, divertiti. Ecco. E' difficile tenerti ancora qui, sei un fartello troppo grande da portare. E io giuro che non posso farne a meno, ma il mio cuore, ora no, non ce la fa. E non stringermi così, chiudi gli occhi e pensaci. Io non voglio farlo per poi perderti, sparirò, contaci. Non saprai più dove sono e capirai che con me non potevi andare lontano e saprai dar di più. Trovo un uomo che è più buono e che ti ami più di me, anche se io credo sia impossibile. E' difficile tenerti ancora qui, sei un tesoro che non posso governare. E sai di donna, sai di amore, sai di male. Tutto quello che non posso rinunciare. Ora devi andare via bloccando. Va bene, va bene, bravo. Come sempre, qual è il titolo? Sparirò di Luca Delisio. Ah, Delisio. E' vivo? Non ti sa. Francesco, allora va bene, altri concorrenti, niente, solo voi ci siano, solo loro ci siano. Va bene, allora Francesco, come lo so, tutti chiameranno loro. Ok. Io non c'entro niente, ti voglio bene, nel senso che io... Ma io l'hai ricevuto il mio messaggio? No. No? No. Eh, due o tre messaggi ti ho inviato. Eh, no, ma non le cani, non ti preoccupare. Ciao Francesco. Ti accompagna è o l'accompagnò io? L'accompagna è. Grazie. In bocca al lupo. Ciao Francesco. Ciao.